L'uragano Newton colpisce la costa nord-occidentale del Messico causando forti precipitazioni e venti fino a 145 km orari. Nella località balneare di Los Cabos i turisti sono stati invitati a restare al coperto. Cinque persone sono state arrestate per tentativi di saccheggio in due negozi. Alberi e rami caduti, linee elettriche e telefoniche danneggiate, ma nessun ferito in questa zona, mentre la settimana scorsa nel sud del Messico le piogge causate da Newton hanno provocato tre vittime.